Bene amici, lui è Asus Zenfone 8 e mantiene la camera flip con i suoi pro e i suoi contro Il pro, beh, mantenere il display pulito, non ci sono fori, non ci sono tacche Il suo contro, forse, che viste le dimensioni limitate della placchetta dove stanno proprio le fotocamere Beh, la cam non ha una qualità esagerata E anche, quello che ho notato su Zenfone 7, la potenza del motore fa sì che se prende delle botte Vedete, un po' esce e poi comunque rientra automaticamente No, la terza non rientra più, ma non è un problema perché è molto molto resistente Insomma, un telefono che ha i suoi pregi per chi ha delle specifiche esigenze Per esempio, al led di notifica, mamma quanto è comodo, mi ero dimenticato quanto fosse comodo Alla registrazione delle chiamate e altre chicche software interessanti Andiamo a scoprirlo insieme Con la confezione che devo dire è essere abbastanza ricca perché contiene la coverina che è furba E vi spiego subito perché Avete visto quel difetto, tra virgolette, che avevo detto prima Cioè quando prende botte e che si apre un pochino la cam Beh, sulla cover c'è questa levetta che la blocca Vedete, quindi quando mettete il telefono nella cover la potete bloccare Ovviamente se dovete fare poi foto, selfie dovete ricordarvi di sbloccarlo Altrimenti non riuscirete a farle È di plastica, abbastanza dura, rigida Fa diventare il telefono ancora più pesante perché Ecco, sinceramente un difetto di questo telefono è un po' la dimensione 9,6 mm spessore, 230 grammi Non sono sicuramente pochi E poi qua sotto c'è il caricabatterie, 30 watt, la batteria da 25 watt ora Quindi si carica circa in un'oretta E poi qua abbiamo il cavo USB di tipo C Buona, l'ipro digitale, lo sblocco, velocità Poi abbiamo sotto la Type-C Purtroppo non esce il video, non so perché gli ASUS, il Zenfone 8 Non abbia fatto l'uscita video dalla Type-C L'audio però è stereo, qua un altoparlante Qua sopra l'altro altoparlante Poi lo slot molto bene, triplo, quindi due SIM più l'espansione di memoria E qua, accensione e spegnimento più il volume Comparto cam, 64 megapixel la principale 12 la grandangolare, non super grandangolare 112 gradi, solito sono intorno ai 120, qua un po' meno Ma abbiamo anche la Zoom 3x E poi quello che vi dicevo prima, qua sotto il LED di notifica Ma ok, ha l'always on display, ok notifica come vedete anche le applicazioni Ma quando appoggiate su un tavolo il telefono, anche da lontano Andare a vedere che lampeggia il LED quando c'è la notifica Ma quanto è comodo Il sensore, vi dicevo, sblocca bene C'è anche lo sblocco col volto, ovviamente dovete aspettare La flip camera, che giri, ok GPS, ok Android Auto Ok G Pay, ok il Wi-Fi 6, ok il Bluetooth 5.2 Insomma è un telefono comunque affidabile, non ho trovato problemi Per quanto riguarda software, versione Android 11 con le patch di aprile 2021 Ma vi parlo subito di batteria perché è un Dr. Jack in Mr. Hyde Non ha la ricarica wireless E vi faccio vedere subito, 3 ore 18, 59% di batteria E la peppa quanto dura? Era domenica, quindi l'ho utilizzato praticamente sempre sotto Wi-Fi Utilizzo da divano Il giorno stress è stato questo Tanto 5G, tanto cambio cell Un po' più di display, 4 ore 26 minuti Ma guardate il 2% alle 23, 35 e al 5 ho messo il risparmio energetico È vero che ho fatto anche tante chiamate, 1 ora e 22 Ma ripeto, come dicevo prima, è un telefono che si scalda un pochino quando lo usate hard Con dei giochi E ovviamente essendo un 888, un processore che non consuma tanto quando lo si usa in maniera blanda Ma inizia a consumare quando lo si usa in maniera hard Ha questo comportamento Display 6,67 pollici di diagonale Super AMOLED Full HD 90Hz HDR Sì, oggettivamente è bello il fatto che non ci siano tacche Non ci siano buchi fuori È un bel display Ovviamente AMOLED quindi neri assoluti Buono anche l'angolo di visuale Buona anche la luminosità massima Non raggiunge altri top di gamma Arriva a mille nits Ma devo dire che ci sta La cosa che mi piace di questo telefono è l'estrema personalizzazione praticamente di tutto Tra l'altro ok alle bassi luci, non fa giochi strani e ok anche il sensore di luminosità Ma se vado nelle impostazioni, vi faccio un esempio Anche nel display Guardate quante cose si possono andare a settare La temperatura colore anche in modalità decisamente importante La frequenza di aggiornamento Ma non solo perché per esempio Adesso vi faccio la chiamata Ma nel menu rete e internet Se vado nelle reti mobili Guardate posso attivare e disattivare il 5G Renderlo intelligente Ma soprattutto decidere se attivare lo stand alone Che è quello standard che in Italia non è ancora arrivato Arriverà magari renderà il telefono un pochino più instabile Allora vedete lo si potrà accendere o spegnere E arriva un disclaimer E poi l'aggregazione automatica delle leti attivare Insomma un sacco di opzioni Che ormai è difficile trovare su altri telefoni Per esempio anche un esempio stupido Di quanto c'è cura all'utente da parte di Asus Attivo il roaming dati Mi chiede solo per questo viaggio Oppure per tutti i viaggi Che non è cosa stupida Perché a volte magari si attiva il roaming Si fa il viaggio E poi si dimentica e rimane attivo anche nel viaggio successivo Vi stavo parlando della parte telefonica Allora chiamiamo subito il 190 E guardate il dialer consente la registrazione delle chiamate Altra cosa che ormai non si trova più da nessuna parte Il volume è abbastanza buono E come sentite però è mono Esce solo da sotto Buona anche la qualità della capsula auricolare Un telefono confortevole E il dialer Asus però non vi avvisa dello spam Quindi decidete o registrate le chiamate Oppure non venite avvisati dallo spam Software tendenzialmente stock Con la pagina di Google a destra Però anche qua c'è tanta personalizzazione Sia le preferenze della home page Vedete sono tante Ma anche gli stili dell'icone Anche la modifica del tema della cartella Per esempio che potete andare a scegliere E poi ovviamente possibilità del drawer Quindi swipe su con tutte le applicazioni Oppure come metto io tutte le applicazioni sulle varie schermate Swipe giù con le notifiche Ma c'è sempre questo pulsantino che vi consente Guardate di avere tutte le applicazioni qua a portata di mano Tra l'altro se vado nelle impostazioni qua Nella Zen UI Anche il tasto smart Che poi il tasto accensione può essere personalizzato Per attivare l'assistente Google Possiamo anche attivare tenendo premuto Qualsiasi altra applicazione E devo dire che è una cosa comoda Ovviamente i doppi account su tutte le applicazioni Ovviamente no perché non sono tanti i telefoni che lo possono fare Su tutte le applicazioni E poi niente vabbè gestione mobile È il classico assistente per pulire la memoria Pulire i dati eccetera 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 Come va è veloce e fluido reattivo? Ve lo faccio vedere subito Vi faccio vedere Instagram Ma sì è uno Snapdragon 888 Le memorie sono 8 RAM 256 UFS 3.1 È assolutamente veloce Però voglio farvi vedere una cosa Vado mamma che fame Ho visto una cosa Siamo nei dintori di mezzogiorno La cam Beh prima di tutto vi faccio vedere Come quando fuoriesce Cosa rimane Ovviamente un forellino Quello che vi dicevo Vedete lo spessore limitato Lo spazio limitato Quindi la qualità Vabbè ma non metto il carro davanti ai buoi Ve ne parlo dopo Mi è piaciuto un sacco questa cosa Guardate posso decidere Di orientare la cam Quindi posso fare delle storie particolari Anche su Instagram Cioè anche su applicazioni Che non sono la fotocamera Qua abbiamo tre posizioni Su cui posso memorizzare la cam posteriore Oppure volendo la posso chiudere totalmente O con questo pulsante Vedete la posso far girare Ruotare Quindi posso fare storie Instagram Molto molto particolari Questa è una cosa apprezzata E soprattutto è l'unico Che può fare questo effetto Offerte.tech Club Insomma un po' dove volete Andate a seguirle Mamma nel Prime Day Sono state tantissime offerte interessanti Tra l'altro abbiamo inaugurato Ecco No ho sbagliato Io ho sbagliato l'indirizzo Vabbè comunque era Offerte.club Sito Se andate a vederlo C'è un'altra interfaccia Molto interessante Ma stiamo parlando di velocità Vi sto facendo il giro Ma nessun problema di velocità Ve lo dico subito Invece non mi è piaciuta Cosa la vibrazione Della tastiera Buono La reattività del tocco Quindi non si fanno tanti errori Ma il feed È un po' basso Ho perso qualche chiamata Non zanzaroso Ma basso Si sente poco Non è aptico Non è stock 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 Questo non mi ha fatto impazzire Ovviamente doppio tap off Doppio tap on E Real Racing Si apre Soliti 7-8 secondi Dei telefoni che hanno queste Specifiche Ma cam Allora andiamo subito qua Chiamiamo raccolta Il nostro amico Buzz Questa è la Zoom Che ovviamente non riesce a mettere a fuoco Così da vicino Perché La cam zoom Ha una lunghezza focale Un pochino più Ampia Quindi bisogna mettersi un pochino più lontani Principale 64 megapixel E poi c'è La cosa bella è Vedete Lo zoom Che è continuo Cioè se io vado Zoom out Vado nella grandangolare Zoom in Passo alle varie Cam Zoom out Vi dicevo 112 gradi Ma non grandangolare Tantissimo Ma comunque è comodo Ovviamente qua Ha la possibilità di mettere Le stesse tre posizioni Che possiamo memorizzare Dal menu apposito Oppure Giro rapido Con questa Questa funzione Una cosa che trovo sempre Veramente comodissima Dei telefoni asus La possibilità di scattare la foto Al volo Oppure di decidere Il tempo dopo il quale Il telefono scatterà la foto Questa è sempre una piccolezza Ma è veramente Una funzione Stracomoda Video Allora se rimaniamo in full HD Possiamo partire E andare a utilizzare Tutte le cam Dalla zoom Alla grandangolare Vedete sia da una parte Che dall'altra C'è ovviamente Il pulsantino Anche qua Per ruotare la cam Si possono fare Le grandangolari Le panoramiche Si possono fare Anche foto particolari Con questa cam Cioè io voglio Fotografare un soffitto Tipo la mia lampada Posso tenere Tranquillamente E comodamente Il telefono così Guardo il soffitto E scatto Se no dovrei Metterlo così E per esempio Qua non c'è spazio Insomma un casino Quindi questa camera Flipposa Per qualche scatto Per qualche video Particolare È molto comoda Ovviamente c'è Il sensore Che se cade La fa rientrare al volo Anche se è aperta La La videocamera E Reparto video Però il passaggio C'è solamente Quando giro in full HD Se vado già in full HD 60 frame per secondo Perdo una cam E non c'è il passaggio Tra le cam E il massimo È 8K Ma gira solamente A 24 frame per seconda E poi scalda Come una bestia In 8K Bocchè Panorama La cosa comodissima È che Non c'è la cam anteriore Quindi facciamo sempre Le foto con la cam migliore E Vi faccio vedere Al volissimo In manuale Tutti i vari parametri Che si possono settare Classici di tutti i telefoni Comunque sono Tutti Tutti i parametri Personalizzabili Ma Come vengono le foto Lo vediamo subito Andiamo qua in fotocamera Ho fatto un sacco di foto Perché l'ho usato tanto Questo telefono Cam principale Non posso dire anteriore Perché è sempre la principale Flippata Voi vi ho incontrato Al tour di Peugeot A Torino Sempre piacevole Grande angolare Interni della 308 Che vi faccio vedere Anche fuori Molto bella Molto belle luci Un grande attenzione Al design Al light design Ma anche La plancia tridimensionale E anche fuori Scelta controverso Sul colore Questo verdone Però con tanta luce Risalta E non mi dispiace Assolutamente Taglio laterale Ibrida Plug-in E con tanta luce Le macro Per esempio Questa fatta al logo Nuovo Ridisegnato di Peugeot Sono venute Bene Bene Poteva mancare Un selfie Al golden hour No Infatti l'ho fatto HDR Bene Non benissimo Quando inizia a scendere La luce O si fanno foto Un po' particolari Inizia a mostrare Un po' la corda Macro sul cibo Abbastanza bene Qua una cacio e pepe Con Del gambero Crudo No Non ci siamo Non ci siamo Sono tanto da mi scusi A mangiare Ma Allora Prese a se stante La cacio e pepe Non era male Il gambero crudo Non era male Insieme Non mi ha fatto impazzire Ma vi dicevo Con poca luce Quando inizia a scendere La qualità inizia a calare Grande angolare Questa cam normale Qua cam Normale Con pochissima Luce Manca un po' di dettaglio Si vanno un po' A impastare le cose Qua camera zoom 3x sempre con Poca luce E poi torna tanta luce Torna una macchina Arcana Di Renault Arcana Arcana Ero prevenuto Pensavo fosse Una macchina così cosa Ma dal nome Poi un sub sportivo Poi l'ho provata E vabbè Vedrete il video Ma con tanta luce Vi ripeto Fa delle Buonissime foto I tortelli A Mantova Di zucca Ma quanto sono buoni Con anche questa Polenta Cipolle Brasato E poi prototipo Ferrari Ibrido Beccato Nei dintorni Di Mantova E poi I video Come vengono Allora Chiara Ha iniziato a parlare I conigli Non preoccupatevi È tutto normale Ci sta Le donne a volte Sono strane Sapete Ci lamentano sempre Ma voi non mi parli mai Non parliamo mai Allora si è iniziato a parlare I conigli Andate a vedere il play Perché è divertente Oltre a vedere la qualità Di questo telefono Veniamo al dunque Come scatta le foto E Allora Da Buon Medio Di gamma Non è un Camera phone E anche i video È un buon Medio Di gamma Così Audio invece bene Perché è stereo E si sente bene Potente Andiamo di Gigi Dag Sentite Mancano forse Un pochino i bassi Ma devo dire che La Sterefonia è bella Ampia E Equilibrata Quindi quello che c'è da sotto Esce anche da sopra Senza bassi che escono solo da una parte No in realtà escono da nessuna parte Perché mancano un po' Ma Comunque il volume È alto Quanto costa 799 euro Che Se guardiamo Hardware Prestazioni Sono assolutamente A fuoco Il design è iconico Ma forse Limita un po' la qualità fotografica Visto il poco spazio di disposizione Pesantucce Forse anche un po' squilibrato Forse il blocchetto cam Pesa un po' E quindi quando lo teniamo in mano Tende un po' a fare Questo giochino Di ribaltamento Ripeto Nulla di drammatico Ma Ovviamente devo beccare I pennelluovoli In telefoni che sono sempre più simili Anzi lui invece no È diverso E mi piace Anche il software Molto personalizzabile Quasi stock Ma con quelle funzioni utili In più Che ormai sono state perse Nella maggior parte degli smartphone Led notifica Registrazione di chiamate Opzioni di rete E Se vi servono queste opzioni Lui Fa Per voi Anche perché penso sia l'unico Da avere queste Specifiche E Anche se volete fare scatti Storie creative Con la flip camera È Perfetto Insomma Si distingue Un saluto da Andrea Galeazzi Punto Vabbè ma è normale Che mia moglie parli con i conigli Vabbè Ciao